ma che vuoi è buona è buona rubare è un mestiere impegnativo al massimo di andare a rubare ma lavorare stanca non la voglio che è pasta e ceci è buona ma come si ha questo imparato ecco gli scassinatori e ci sono i saccicciotti una cucina di in più ci vorrebbe ma a me non mi pare dalle nostre parti diciamo femmina piccante picchila per lavante femmina cuciniera picchila per muriera una cucina di in più Grazie a tutti.